Tranquillo, voglio solamente proporti un accordo. È tardi. Tu gli vuoi bene a Leonardo, veramente. Io l'ho visto. Lascialo andare. Ti prego, fanno tornare da me. Guarda che è tuo figlio che non ne vuole sapere più niente di sé. Antonio, io ho avuto paura. Dimmi che cosa vuoi, dimmi che cosa posso fare, che cosa posso fare. Qualunque cosa. Dimmi che cosa vuoi per lasciarla andare. Ci devi pensare prima. Potevamo essere una bella coppia di te. Il re e la regina. Una famiglia. Mi servino da tutto. Per che cosa poi? Per mandare in carcere a me? No, no, Antonio, no. L'ho fatto per Leonardo, l'ho fatto per mio figlio. Tu... tu non avresti fatto la stessa cosa, no? Tu non faresti qualunque cosa per la tua Nina, no? Antonio, dimmi che cosa vuoi. Che cosa? Io non voglio niente da te. Regina di Palermo. Tu la regina di Palermo non l'hai ancora conosciuta. No. Questa... La regina di Palermo non l'hai ancora conosciuta. La regina di Palermo non l'hai ancora conosciuta. No.